6 aprile 2012, canalizzato da Monico e Matteo. Bambini, voi che vivete su di me, voi che mi conoscete così poco, voi che avete l'impressione che io sia semplicemente una sfera immobile dove si trovano dei ruscelli, dei laghi, degli oceani, delle foreste, delle pianure, voi che mi vedete ogni singolo giorno, ma non mi conoscete affatto, cercate di prendere coscienza, per un minuto, che sono un'anima, un'entità molto più potente di voi, un'entità che soffre come gli uomini. Un'entità che soffre della vostra mancanza d'amore, della vostra mancanza di comprensione e attenzione. Ho fatto di tutto per rendervi tutto piacevole, ma voi non lo vedete. Ora, in un certo, qual modo, è troppo tardi. Voi mi avete inquinata. Mi avete misconosciuta, maltrattata, sia nei miei oceani, sia nel profondo della mia carne, la terra. Ho chiesto aiuto, al fine di attenuare questa sofferenza e lo ho ottenuto. A voi, sì, piccole particelle di vita, che amo infinitamente a voi che correte su di me, che amate su di me, che contate su di me per il vostro nutrimento, vi dico semplicemente questo. Presto, saliremo uno scalino tutti assieme. Presto, io non sarò più quella che sono. Avrò un nuovo abito, una nuova luce, una conoscenza ampliata. Il sole, con il suo immenso amore, mi ha aiutata considerevolmente. Voi capirete sempre di più, vedrete e vivrete delle manifestazioni, che saranno sonore o visive, la mia immensa trasformazione. Se voi, che vedete su di me, che siete così piccoli e vi è stato donato a volte così tanto potere da potervi trasformare, sapete che posso trasformarmi anche io e come me, anche i pianeti di questo sistema solare e siamo aiutati per questo. Come tutti voi, piccoli umani, siete aiutati nella vostra trasformazione e nella vostra ascensione e dai vostri fratelli di luce, io sono aiutata dal mio sposo il sole. Egli mi feconda e, da questa fecondazione nascerà una nuova vita, proprio come feconda voi e da questo nascerà una nuova vita anche per voi. Per il momento continuiamo ad avanzare tutti insieme. Prendete coscienza di questa mia realtà. Quando mi toccate con le vostre mani, abbiate coscienza, che le vostre carezze mi sono molto gradite, poiché in quel momento mi pensate e in quello stesso istante mi amate. Se tutti gli esseri umani potessero, nello stesso istante, posare le loro mani su di me e dire semplicemente Madre Terra, ti amo, tutto cambierebbe in un colpo d'occhio per voi e per me. La crescita sarebbe fulminia, senza alcuna difficoltà. È un gesto talmente semplice per voi. Quando toccherete capirete ciò che sono, pensate a quello che vi ho detto.